Il punto di vista del farmacista che almeno lui si è posto in una posizione più vicina ai pazienti rimangono i problemi tecnici del medico che prescrive della scorta da fare e del costo che è un costo per la farmacia ma è un costo per il paziente che ci ha appena detto il farmacista Una farmacia a provincia quindi sono tanto poche è assolutamente insufficiente e naturalmente non può fare altro questa situazione che diventare il mercato illegale della cannabis con conseguenze di tutti i tipi e ultimo ma non ultimo anche la qualità del prodotto che va ad essere consumato appunto dai pazienti che non è certificata che forse è soggetta a mille problemi e che può al limite peggiorare la situazione addirittura il farmacista che diceva di subvedere cosa coltiva chiaramente cosa coltiva che adesso ci saranno un perfetto di consulenti scientifici e medici che naturalmente però il problema di cosa coltivo esiste Il nostro seme che abbiamo piantato nel nord è stata questa manifestazione altamente simbolica perché la legge punisce la coltivazione per cui subito dopo abbiamo semplicemente, ce lo siamo temuti, ce l'abbiamo nei cassetti intorno al nostro seme un po' da collezione, però il nostro seme è un semiterapicativo, ci assicurano di contenuto di civili Bene, volevo giusto finire la serata ricordando che non abbiamo bisogno di autenticatori ma questa cosa la legge purtroppo ci costringe ad un processo molto farraginoso e tu hai parlato prima dei costi che la regione unberghiese in qualche modo ha collato per quanto riguarda la stampa dei moduli in realtà rimane un altro costo che è meno significativo che quello degli autenticatori quando non sono disponibili persone di buona volontà che raccoglono le firme di potere Grazie, ne approfitto, ho deciso di farlo, ringrazio pubblicamente il consigliere di seme Rocco Bordieri di Varese per essere qui con noi disponibile ad autenticare le firme e per le altre occasioni in cui vorrà dare la nostra disponibilità Dando una volta la disponibilità, basta! No, quello è assolutamente vero, il problema, innanzitutto facciamo una chiusura invitiamo tutti quanti ad andare a sottoscrivere la proposta di legge Allora, sul sito, e lo ripetiamo, www.carnabisterapeuticalombardia.it e naturalmente anche la pagina Facebook, c'è una bellissima mappa che abbiamo creato io intanto me la guardo è veramente una regione Lombardia completamente fiorita di piantine di cannabis nel senso che non abbiamo messo una foglia di cannabis in ognuno dei comuni lombardi che è presente quindi sul sito c'è la mappa, chiaramente nei comuni, nelle segreterie comunali o negli uffici preposti sulla mappa ci sono scritti giorni, orari, uffici, indicazioni precise dove lo secondo piano abbiamo messo anche quello per cui non ci sono più scuse quindi nelle segreterie dei comuni quasi, come dicevo all'inizio della serata quasi tutti i comuni sopra i 20.000 abitanti sopra i 20.000 abitanti c'è la possibilità di sottoscrivere la proposta di legge oppure, sempre nella stessa mappa, pubblichiamo i tavoli, i banchetti e gli eventi come questa sera anzi grazie a Arci che ci stava ospitando dove sarà presente un autenticatore, se riusciamo a provarlo naturalmente altrimenti non si raccogliono le firme, un autenticatore quindi anche gli eventi, i banchetti e i tavoli saranno pubblicati normalmente, visto che tutti quanti abbiamo il lavoro e i nostri impegni venerdì, sabato e domenica, almeno questo è il metodo Milano che adottiamo venerdì, sabato e domenica ci sguinzagliamo in giro per la città tendenzialmente da Senanabili, luoghi della Movida eccetera eccetera con il nostro bravo tavolino, con le nostre firme e da qui a breve, qua lo dico, inizierà anche la raccolta firme per le DAT quindi, se ce l'ha visto io, ti lascio subito la parola che è esattamente sempre una proposta di legge e iniziativa popolare regionale perché noi abbiamo capito che con 5.000 firme possiamo sconvolgere tutto l'impianto legislativo della Rosa Carmona sull'inserimento delle proprie dichiarazioni anticipate di trattamento il famoso costamento biologico per intenderci nella CRS si, volevo solo estendere una piccola nota a te che chiaso le firme io di Varese posso firmare al banchetto di Milano quindi non ci sono problemi da questo punto di vista l'importante è che se cittadino lombardo ci sia un certificatore un autenticatore un autenticatore perché si dove vanno certificare esatto, allora raccordiamo le firme le firme vanno prese alla presenza di un autenticatore che è un consigliere comunale, un consigliere provinciale o un notaio neanche i consiglieri metropolitani adesso ci hanno tolto a Milano ci hanno tolto anche i consiglieri metropolitani per cui non hanno facoltà di autenticare comunque queste figure possono autenticare anzi se qualcuno volesse darci la propria disponibilità sarebbe grande cosa e una volta raccolte le tot firme necessarie noi speriamo di arrivare almeno 6.000 per avere una sorta di sicurezza tutte le firme, ma questo riguarda proprio gli addetti al lavoro vanno portati agli uffici elettorali vanno fatte certificate e con il certificato elettorale andranno poi entro il 30 gennaio forse non l'abbiamo detto entro il 30 gennaio 2016 depositate in consiglio regionale che è vincolato quindi è obbligato alla discussione una proposta di legge come quella dei 5 stelle che abbiamo ricordato anche durante questa serata può non essere discussa una proposta di legge di iniziativa popolare deve essere discussa quindi che ci diciamo sì o no e nel caso ci dovessero dire di no non sappiamo con chi prendercela il 21 gennaio per la cannabis il 8 marzo per la registronata che è l'8 sostanziali dei tirati immobili in fase di ricordare l'ottobre 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 bene se c'è qualche domanda che vogliamo fare a Claudio o a un risultamento si se siamo esasti altrimenti chiudiamo qua grazie chi non ha firmato è invitato a firmare e niente qualsiasi informazione disponibile sul sito ripetiamo www.cannabisterapeuticaLombardia.it www.cannabisterapeuticaLombardia.it potete trovare banchetti informazioni possibilità di contattarci e dare probabilmente anche la vostra disponibilità a organizzare banchetti verso la vostra città grazie e buonasera grazie